Grazie mille, faccio un po' dell'equilettorese, in questa passione di sincronone sono arrivati a conoscere il carro e vado a vivare. Grazie, grazie mille, grazie per il diverso, un buon procedimento e un buon tempo, e voi, prossimamente per il numero uno. Siamo il quattro di questa quarta edizione del motorhome di scelta via. Siamo il 5, anche loro, scuola proprio, e non c'è la PN5. Siamo il 5, anche loro, scuola proprio, e non c'è la PN5. Mi sono un po' pentito di dire che non c'era lo speaker. Non c'è la PN5. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti.